Musica Un cordiale saluto a tutti voi, oggi è martedì 28 aprile 2015 e questa è la rassegna stampa Occhio ai giornali che come tutte le mattine mi tiene compagnia alle 7.30 in diretta Poi replica a rullo fino alle 8.30 e poi le repliche anche delle 9.10 e 13.30 Dunque mattinata con i giornali aperti, lo faremo tra un attimo Adesso vediamo invece il tempo e il santo del giorno Oggi è Santa Valeria, il sole è sorto alle 6.04 e tramonterà 7 minuti dopo le 20 Allora abbiamo il tempo, dicevo, guardate questa è la città di Fano questa mattina Che si sveglia sotto una coltre di nuvole, insomma la regione Marche, un po' l'Italia Insomma è interessata da una forte perturbazione, 11 gradi e 8, 12 gradi alle 7.30 di questa mattina Intanto le previsioni della protezione civile delle Marche indicano per oggi cielo nuvoloso Con addensamenti cumuliformi più consistenti nella seconda parte della giornata Avremo rovescio temporali sparsi più insistenti nel pomeriggio Le temperature sono in diminuzione, i venti di brezza leggero e il mare sarà poco mosso Per domani invece mercoledì 29 aprile avremo cielo poco nuvoloso con aumento della nuvolosità Dalla serata, in serata avremo anche possibilità di qualche rovescio sparso Le temperature in aumento nei valori massimi Per giovedì 30 ancora tempo che è così variabile tra nuvole, sole e pioggia Insomma avremo nella prima parte della giornata di giovedì rovesci sparsi Che poi andranno ad esaurirsi nel corso della mattinata Le temperature saranno in ulteriore lieve aumento nei valori massimi I venti di brezza leggera meridionali Indicazioni di tempo stabile a partire dalla giornata del primo di maggio Dunque dovrebbe essere garantito il bel tempo Allora ieri a Fano è venuto Salvini Salvini non è stato contestato A differenza di quello che è successo e dell'accoglienza Che invece il leader della Lega Nord ha ricevuto sia ad Ancona che a Macerata Dove invece ha dato da fare alle forze dell'ordine Perché è stato contestato dai centri sociali, dai sindacati E anche da qualche esponente politico di sinistra Dicevo a Fano invece è cominciato tutto bene Lo scrive e lo evidenzia sulla pagina Contatto di foto gigante il resto del Carlino Che sulla pagina di Fano scrive Fano non contesta Salvini Il leader accolto bene nella città del segretario Luca Paolini A differenza di Ancona e Macerata Accuse a PD e Europa Qui intanto vedete Salvini al centro Con al suo fianco Paolini Il corteo di persone dietro Qui siamo all'inizio di Corso Matteotti Lato Pesaro I prefetti sono degli affittacamere Dice per far crescere il partito Sono pronto a stare qui per un mese Questa è la pagina di Fano Sulla quale poi torneremo per le altre notizie Mentre sulla pagina del messaggero delle Marche Uova fumogeni e insulti Salvini tour di tensione Accolto dai centri sociali di Ancona Respinto invece davanti all'hotel House A Macerata è stato sfondato il cordone di polizia Due feriti, un attivista ed una poliziotta E qui vedete alcuni fotogrammi con le immagini In alcuni casi Salvini superstar Dove si è concesso anche ai selfie I selfie con uno dei tanti suoi simpatizzanti Poi invece qui sotto contestato in Piazza Roma E invece Porto Recanati Esplosiva Insomma, mentre la polveriera hotel house Lo vedete qua in fondo Quella struttura Che francamente è davvero brutta Lì a due passi dal mare Salvini è andato giù pesante Ha detto Anche qui bisogna radere al suolo Tutto quanto Insomma, siamo in campagna elettorale I toni sono quelli che sono Berlusconi mi ha chiesto di sostenere Spacca Dice affano Salvini Io però ho rifiutato Il leader del Carroccio Stiamo volando anche nelle Marche I sondaggi qui sono buoni Di questo si occupa ovviamente Anche il Corriere Adriatico La pagina di Fano Eccola qui In fondo Salvini Si schiera al fianco di Pescatori e Bagnini Il leader della Lega Nord Inizia a fare il tour regionale Sostegno della lista Guidata da Paolini Restiamo sul Corriere Adriatico Queste fotografie parlano Di una città abbandonata All'incuria, al degrado La città che non vorresti Vandali E anche esercenti Si dividono le responsabilità E in queste immagini Potete vedere un po' Come alcuni Alcuni spaccati di questa città Che si ripetono un po' ovunque Con strade, marciapiedi inesistenti Ormai tutto è rovinato Anche camminare diventa difficoltoso Per chi vuole semplicemente fare una camminata Una passeggiata Spesso bisogna stare attenti a non cadere Perché ci sono buche e quant'altro Insomma la situazione non è certamente bella Eppure, eppure Guardate qua Sull'altra pagina del messaggero E questa fa veramente incavolare Un tesoretto di 26 milioni È come avere in casa 26 milioni di euro L'avanzo di bilancio Che però non si può spendere E questa è la situazione Dell'Italia La situazione di molti comuni Virtuosi come il nostro Che però hanno dei soldi Ce li hanno lì Da parte Con 26 milioni Pensate quante strade Si potrebbero sistemare Sistemeresti tutta la città Da tutte le vie Eppure non si può fare Perché? Perché il famoso patto di stabilità Che tanto c'è simpatico Sabina Guzzanti E Michael Moore Parliamo adesso invece Di una proiezione cinematografica Che questa sera verrà Alla Fano Al Cinema Politeama Un film La Trattativa E l'attrice Nonché regista Sabina Guzzanti Sarà presente questa sera a Fano Per presentare questo film Al Cinema Politeama E al suo fianco E' stata annunciata La presenza Del celebre regista Statunitense Michael Moore Vincitore della Palma d'Oro Al Festival di Cannes Con Fahrenheit 9-11 Che riguarda appunto La strage Le torri gemelle Del 9 settembre Dell'11 settembre Negli Stati Uniti Poi sotto Da Lourdes La reliquia di Bernadette La rivolge Nella sede Dell'Unità Si Tour Nella diocesi Fino Alla 6 maggio L'appuntamento Alle 17.30 Dove giungerà In via del torrente Numero 3 Nella zona Trave Poi sull'articolo In questo articolo C'è tutto quello Che c'è da sapere Per seguire Queste reliquie Che faranno Questo tour Appunto Nella nostra diocesi Ieri ci sono stati Funerali Invece A Marotta Nella chiesa Di San Giuseppe Del giovane Davide Bronzini Morto Negli Stati Uniti In un incidente Stradale Ricordiamo Davide Nelle nostre preghiere E La commovente Richiesta Omelia Di Don Egidio Una folla Che Lo ascolta Per dare L'ultimo saluto Appunto A Davide Il ragazzo Che vedete In questa Fotografia Qui sotto Davide Che La notte Tra il 19 E il 20 Di marzo Scorsi E' morto Dicevo Durante Un incidente Nel corso Di un incidente Stradale A causa Di un incidente Stradale Allora La pagina di Senigallia Invece Del Corriere La provincia Il Misa E' ancora pericoloso Il fiume E' ancora pericoloso Fiume a rischio Finché non saranno Realizzate le vasche Di espansione Attesa per i fondi Regionali Abbiamo concluso La parte Relativa allo stanziamento Dei 760 mila euro Per la pulizia Del fiume Poi Un ladro Di 23 anni A Senigallia Individuato E denunciato Si prende il bancomat E preleva 750 euro Vittima Una 47enne Di Ancona La pagina invece Di Pesaro Del Corriere Pugili Ubriachi Prendono a pugni Tre carabinieri Sono stati arrestati I militari Li hanno sorpresi Mentre tentavano Di rubare Due biciclette Approfittando Della confusione Per una maxifesta In spiaggia Che si teneva Cattolica Il controllo Nell'ambito Degli accertamenti Previsti Nei pressi Del bichini Che ospitava 15.000 persone Il vicino di casa Sarà lo sceriffo Del quartiere Il prefetto Di Pesaro Pizzi Propone Il controllo Di vicinato È un'idea Che piace Le forze Dell'ordine Al sindaco Però bisognerà Capirla un attimino Bene Sul suo funzionamento Su come dovrà Essere organizzata L'ipotesi Analizzata Nel corso Della presentazione Di una iniziativa Di sensibilizzazione Nei rioni Torniamo sul messaggero Allora intanto La prima pagina Dedicata alla politica Gli assessori Del partito democratico Lasciano il governatore Spacca A un mese Dalle votazioni Ieri ci sono state Le dimissioni A sorpresa Con il governatore Resta Viventi Dell'Udc Una giornata Convulsa Anche per la visita Nelle marche Del leader Della Lega Matteo Salvini A centropagine Invece Lo sport Con la fotografia VL e vis Sull'orlo Del baratro Sia il calcio Che il basket Quest'anno A Pesaro Davvero Sono Da allarme Bianco-rosso A due giornate Dal termine Salvezza Sempre più complicata Sia per la VL Sia per la vis Poi sotto Invece Sboccia A Durbino Guardate qui Che fotografia Sboccia A Durbino Il fiore Più grande Puzzolente Del mondo Tra l'altro I botanici Del campus Scientifico Mattei Dell'Università Di Urbino Hanno deciso Di piazzare Una webcam Una telecamera Per poter seguire Anche Non per la puzza Ma per poter Dare la possibilità A tutti Di seguire L'evoluzione Di questa pianta Di questo fiore Il fiore più grande Del mondo Quindi c'è Un indirizzo Internet Che troverete Sul giornale Webcam.uniurb.it Slash Fiore.htm Ma comunque Lo troverete Tranquillamente Girando su internet C'è questa webcam Grazie alla quale Si può seguire La crescita Di questo fiore Andiamo Sull'altra pagina Del messaggero Regione Gli assessori PD Lasciano spacca Formalizzate Dicevamo Le dimissioni Sempre Sul messaggero Ecco la notizia In evidenza Del prefetto Di Pesaro Che lancia Le sentinelle Volontarie La proposta Di Pizzi Non si tratta Di ronde Un po' La modella Modella lega Insomma Non si tratta Di ronde Di cittadini Ma di controllo Sociale Organizzato Contro furti A truffe Ora bisognerà Ripeto Capire bene Cosa si intende Perché poi Dopo si rischia Il filo Magari Il limite È lì Il filo È sottile Quindi si rischia Poi di fare cose Che dovrebbero fare In realtà Poi Le forze dell'ordine Tante volte Ci siamo Detti Questo si può fare Questo non si può fare Questo è il compito Le forze dell'ordine Allora bisognerà Spiegare molto bene Quali sono I ruoli I compiti Di queste sentinelle Volontarie Dov'è il limite Oltre il quale Non si può andare Anche perché se poi Uno fa lo sceriffo Sai Di questi tempi È un po' rischioso Il questore Invece Dice Qualche perplessità Sulla creazione Di controlli Nei quartieri Ricci Il sindaco di Pesaro Studia la videosorveglianza Ancora dal giornale Operai senza paga Da cinque mesi Pronti alla denuncia C'è avvertenza Sifa Le riunioni I sindacati chiamano Anche i carabinieri Ma l'azienda smentisce Gli stipendi sono regolari Arrivano i profughi Ma non sulla costa La nuova ondata Annunciata ai sindaci Nei giorni scorsi Adesso la prefettura Conferma I primi 48 Andranno tutti a Peglio Almeno in questa fase A ridosso della stagione turistica Le strutture di Pesaro E Fano Non saranno coinvolte La pagina di Fano Invece del messaggero Si occupa del porto Il porto ormai Ha una trappola Ferme anche le barche a vela Il fondale è basso Annullata pure La tradizionale regata Del 25 aprile Gli organizzatori Chiedono interventi subito Oppure salteranno Tutte le manifestazioni Dopo i settori Della pesca Della nautica Il diporto finisce Nelle secche Dello scalo fanese Allora Gli alpinisti Questa è la notizia Che arriva dal Nepal Gli alpinisti fanesi Forse Di ritorno Il prossimo 10 maggio Comunicare con Pietro Marcolini E Gianluca Cantiani Di 49-50 anni È tornata È un po' difficile È tornata Un'operazione impossibile A causa di danni Provocati dal terremoto Le famiglie Si tengono comunque In contatto Per farsi coraggio Ma con animo Ben più sollevato A partire dalla mattinata Dell'altro ieri Quando Pietro appunto Riuscito a telefonare Alla fidanzata Per dirle Che lui e Gianluca Stanno comunque Bene E non sono Vicinissimi Alla Alla Zona Dell'epicentro Al sisma Chiuso in pareggio Il bilancio 2014 Servirà più tempo Per quello del 2015 L'assessore Cecchietelli Dice avanzi per 26 milioni Bloccati dal patto Di stabilità Andiamo e torniamo Sul resto del Carlino Velocemente Siamo in ritardo Pagnoni Pronto a iscrivermi A Forza Italia Il candidato Roberto Pagnoni Con la Mussolini E al fianco Letizia Conter Poi ancora Sempre sul porto Il porto insabbiato Guardate anche qui Questa fotografia Eloquente Vele ammainate Bloccate le regate Sospese tutte le attività Previste Ancora dal resto del Carlino Al centro pagina La pagina di Fano Bilancio sociale Svincolato dal patto Di stabilità La proposta Delle associazioni Per gestire I fondi A Marotta Invece Marotta si ferma Per l'addio a Davide Ieri a San Giuseppe I funerali Del giovane morto Ecco le immagini Le fotografie Con L'uscita della chiesa Il feretro Con la fotografia E sotto Il dolore Della moglie E dei parenti Del giovane morto Ma è morto negli Stati Uniti Poi il boscaiolo Che fugge Dai domiciliari I carabinieri Lo rintracciano In una mulattiera Di frontone Il 52enne Era agli arresti Domiciliari Per il reato Di stalking Una volta accertata La fuga Hanno avvertito La donna E organizzato Una battuta Per i boschi Per rintracciarlo E poi L'ultima pagina Del resto del Carlino È per L'allarme tifosi Pesaro-Caserta Un match decisivo Ma ad alto rischio Visto i precedenti Vivo il ricordo Infatti Di una rissa Della rissa furibonda Con sbarre di ferro Nel 2006-2007 Nel campionato 2006-2007 E con questo Chiudiamo qui La nostra rassegna stampa Occhio ai giornali Torna domani mattina Puntuale in diretta Alle 7.30 Stasera invece Alle 20.30 C'è il telegiornale E come di consueto Poi Il nostro sito internet Occhio alla notizia Punto it È tutto Buona giornata Arrivederci Grazie a tutti